Il ritorno dei voli L'aeroporto internazionale d'Abruzzo, pace fatta dunque tra la compagnia Low Cost che annuncia dopo l'incontro con il premier Renzi e il ministro del Rio un piano di investimenti da un milione di euro. Buone notizie per l'aeroporto internazionale d'Abruzzo. Dopo l'ufficializzazione del governatore che aveva rassicurato sul ripristino delle vecchie rotte sospese e dell'introduzione progressiva di sette nuove destinazioni, arrivano anche le dichiarazioni confortanti di Mistoliri, amministratore delegato della Low Cost irlandese. Che proprio oggi ha dichiarato siamo estremamente grati al primo ministro Matteo Renzi e al ministro delle infrastrutture Graziano del Rio per aver preso questa iniziativa per incrementare il turismo in Italia cancellando la tassa municipale sui voli e la revisione delle linee guida sugli aeroporti. Il ministro del Rio, a proseguito Liri, ha sfidato le compagnie a rispondere con piani di crescita se il suo governo avesse agito per migliorare la competitività degli aeroporti italiani e noi siamo lieti di essere la prima compagnia aerea annunciando il nostro più grande investimento in Italia. La Low Cost irlandese infatti presenta il piano di investimento nel dettaglio, un miliardo di dollari in dieci nuovi aeromobili, 44 rotte grazie alle quali il traffico aumenterà del 10%, passando da 32 milioni di passeggeri del 2016 a 35 nel 2017, decretando di fatto Ryanair prima a violine in Italia. Aumenti previsti anche per i posti di lavoro che saranno implementati di 2250 unità. A commentare il buon esito delle trattative arriva anche il ministro all'infrastruttura, Graziano Del Rio, che spiega come il governo italiano sia continuando il suo percorso di allineamento alle norme europee, norme che per inciso avevano creato la dipartita di Ryanair, bloccando di fatto tutti i finanziamenti di Stato nei confronti delle regioni. Grazie all'investimento garantito dalla compagnia di volo, spiega, si aprono più opportunità al turismo in Italia e soprattutto più occupazione. Salvi dunque, dopo non poche preoccupazioni, l'aeroporto di Alghero e quello di Pescara. Già da questa settimana infatti i voli torneranno in vendita. Nei mesi scorsi l'associazione Pescara Mi Piace aveva criticato la gestione dell'aeroporto dopo il paventato addio, ora rientrato, di Ryanair. Resta però il giudizio critico sulla gestione di Saga. La Ryanair torna a Pescara, notizia di poche ore fa. Armando Foschi, voi eravate stati critici nelle scorse settimane quando si era paventata l'ipotesi di un abbandono della Ryanair. Questa è una buona notizia. Secondo voi a questo punto cosa cambia per lo scalo aeroportuale di Pescara e dell'intera Abruzzo? Noi siamo stati i primi a segnalare le problematiche di Ryanair che voleva abbandonare lo scalo aeroportuale di Pescara. Non siamo contrari al movimento aereo nello scalo pescarese, siamo contrari alla gestione dello scalo, così come avviene. Una pioggia di milioni di euro, in due anni 15 milioni di euro catapultati dentro le casse della Saga, quando il pronto soccorso di Pescara soffre. Gli ospedali minori vengono chiusi e si mette a rischio la salute dei cittadini abruzzesi. Ieri abbiamo preso che Ryanair resta a Pescara, quindi questo ci fa piacere perché sicuramente l'aeroporto di Pescara diventerà una cattedrale del deserto. Però siamo attenti a vedere quali finanziamenti pioveranno nelle casse di Ryanair, devono essere finanziamenti illegali. Dal punto di vista finanziario economico, turistico, questa è una buona notizia per tutto l'Abruzzo? Certo, nessuno lo nega, mica siamo contrari, anzi se l'aeroporto di Pescara riesce a raggiungere 700.000-800.000 passeggeri è sicuramente un buon indotto. Poi dobbiamo vedere di questi 800.000 passeggeri quanti spenderanno euro in Abruzzo. La cronaca era a pochi metri dalla riva quando accusato un malore ed è stato visto cadere in acqua. I immediati sono stati soccorsi per rianimare un monaco benedettino di 77 anni che stava facendo il bagno nella spiaggia di Punta Penna, a Vasto nella riserva naturale di Punta Delci. Per il religioso però non c'è stato niente da fare, nonostante ci siano stati soccorsi per circa un'ora, un'ora appunto per tentare di rianimarlo, anche con l'utilizzo del defibrillatore. Sono stati alcuni turisti a tirarlo a riva chiedendo l'intervento del bagnino, anche coadiuvato da alcuni medici che erano in spiaggia. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, è raggiunta anche l'eliambulanza. Il monaco benedettino risiedeva in comunità presso la Basilica del Santuario Santa Maria dei Miracoli di Casalbordino, sempre in provincia di Chieti. Per i rilievi di legge è intervenuto il personale dell'ufficio circondariale marittimo. E ora tracciamo un bilancio del Ferragosto, in particolare a Pescara, un Ferragosto ok per gli stabilimenti balneari e per i locali. Padovano, pienone sulle spiagge, pienone nei locali a Ferragosto, a Pescara, la giornata del 15 è andata forse anche al di là delle più grosse aspettative. Siete soddisfatti? Siete soddisfattissimi, ma io non mi limiterei solo a Pescara, diciamo a pure Francavilla-Monte Silvano. Questi 22 km di costa, che hanno avuto un notevole incremento di bagnanti, lo dobbiamo anche al clima, al bel tempo e anche alle notizie che poi sono apparse soddisfacenti per quanto riguarda il nostro mare. Purtroppo abbiamo pagato per una stagione 2016 un'annata, un po' dal tempo, un po' dalle notizie che hanno portato i bagnanti lontani dalla nostra realtà turistica. Noi crediamo che questa settimana ci dia il giusto momento di riflessione per programmare già per la stagione 2017. Che cosa fare? Intanto dobbiamo muoverci con la regione Abruzzo, la regione Abruzzo debba investire di più su questo tratto di costa che possa promuovere di più l'immagine del tratto Pescara-Francavilla-Monte Silvano. Noi abbiamo fatto diverse iniziative per fare in modo che a Pescara, in questo comprensorio, dico sempre Pescara, ma mi riferisco anche agli altri due comuni limitrofi, di portare gente attraverso anche una scontistica. Abbiamo fatto quella con i treni, che prendeva il biglietto del treno del 50%, poi abbiamo fatto una proposta un po' promozionale per chi ha i stabilimenti bagnari, che ha quegli ombrelloni che non sono stati venduti per l'intera stagione, liberi, di dare l'opportunità a chi viene dall'interno, non residente Pescara-Francavilla-Monte Silvano, di dare l'opportunità di prendere l'ombrellone gratis o la Palma Grazia. Questa iniziativa potrebbe essere un lancio per la promozione di fine estate. Diamo questa opportunità a chi vuole venire al mare, in diversi liti hanno dato l'ok, di dare l'opportunità di venire e prendere l'ombrellone e non pagare. Restiamo nell'ambito del Ferragosto, importante lavoro delle forze dell'ordine che hanno implementato i servizi di vigilanza nelle località di mare e dell'entroterra della provincia di Teramo per garantire sicurezza a cittadini residenti e turisti. Servizi di vigilanza rafforzati in tutta la provincia di Teramo in occasione delle festività di Ferragosto, in concomitanza con il massiccio afflusso di turisti nelle località balneari della costa, tanto quanto nei centri dell'entroterra montano. Su indicazione del prefettore di Teramo sono stati posti in atto servizi interforze ad opera della Questura, con il contributo delle specialità Polstrada, Polfer e Volo e del reparto prevenzione crimine della Polizia, e dai carabinieri con personale in divisa e in borghese, anche in orari serali e notturni, al fine di garantire sicurezza a residenti e turisti, scorrevolezza del traffico e al fine di prevenire incidenti stradali, soprattutto quelli conseguenza di guida sotto effetto di bevande alcoliche o di sostanze stupefacenti. Particolare attenzione è stata posta poi alla prevenzione di furti in abitazione, rapine in esercizi pubblici, commercio ambulante abusivo, vendita di merce contraffatta e contrasto della prostituzione. Dal 13 al 17 agosto in generale sono state 10 le persone denunciate ed una arrestata, un trentenne terramano per spaccio di sostanze stupefacenti colto in flagrante a Martinsicuro, un trentunenne segnalato per possesso di stupefacente per uso personale, 13 le patenti e carte di circolazione ritirate con un totale di 2267 persone identificate e 1910 automezzi controllati, tre i veicoli sequestrati. Nella notte tra il 16 e il 17 agosto il personale della squadra volante ha sventato un tentativo di rapina presso un distributore di carburanti in un'area di servizio della Terramo Mare, quattro persone travisate hanno cercato di forzare la porta del magazzino deposito ma alla vista degli agenti sono scappati nelle campagne limitrofe facendo perdere le loro tracce. Rilevante il contributo anche delle unità, della Guardia di Finanza, del Corpo Forestale dello Stato, dell'Ufficio Circondariale Marittimo, della Polizia Provinciale e delle Polizie Municipali dei centri più popolosi della provincia nell'ambito delle specifiche attività di competenza. Il parlamentare di SEL Gianni Melilla dopo la visita al carcere di San Donato parla di una struttura oramai vetusta e di carenza di personale di almeno 20 unità. Buono invece il programma di lavoro destinato ai detenuti. Un'attività periodica, quella svolta all'interno delle carceri per vedere quella che è la situazione da un lato dei detenuti e dall'altro anche proprio delle strutture. Si parla in alcuni casi di sovraffollamento, in altri invece di strutture che ormai sono fatiscenti. Ieri l'ultima visita è stata quella al carcere di Pescara di San Donato. Fortunatamente a Pescara non c'è sovraffollamento. Il carcere può avere 270 detenuti e ne ha 271, quindi siamo nella perfetta norma. Non è così in Abruzzo, dove vi sono carceri come quello di Sulmona, che ha 150 detenuti in più, ne ha 450, ne dovrebbe avere 300, o anche il carcere di Teramo. E quando c'è sovraffollamento la promiscuità genera sempre problemi, non solo di qualità della vita, ma anche di garanzie delle condizioni di sicurezza da parte del personale di Polizia Penitenziaria. Qui a Pescara c'è questo aspetto critico che mancano circa 20 agenti di Polizia, manca anche il personale amministrativo, per la verità. Questo comporta naturalmente dei turni di lavoro particolarmente pesanti e stressanti per il personale, perché noi non dobbiamo mai dimenticare che nel carcere ci sono i detenuti, ma ci sono anche i lavoratori senza colpa che lavorano lì e devono garantire la sicurezza dei cittadini e la custodia di queste persone, che naturalmente devono essere rieducate mentre scontano la loro giusta pena. E ora con il prossimo servizio torniamo ad occuparci della vicenda legata a Salvatore Parolisi, che potrebbe lasciare il carcere militare di Santa Maria Capoavetere. Il prossimo 28 settembre i giudici discuteranno la richiesta del sostituto Costagliola di degradazione del militare dall'esercito. Salvatore Parolisi potrebbe lasciare il carcere militare. A distanza di due mesi dalla sentenza definitiva della Cassazione, che, rigettando il ricorso dei legali del caporal maggiore, ne ha confermato la condanna a vent'anni di reclusione per l'omicidio della moglie Melania Rea, si torna a parlare di uno dei casi più discussi degli ultimi anni. La prossima pagina che potrebbe essere scritta su questa vicenda è legata alla richiesta del sostituto procuratore generale di Perugia, Giancarlo Costagliola, di applicare nei confronti di Parolisi la pena accessoria della degradazione del militare dall'esercito. Tra le conseguenze principali ci sarebbe l'uscita dal carcere militare di Santa Maria Capoavetere, dove il caporal maggiore è attualmente rinchiuso dopo un periodo trascorso nella casa circondariale di Castrogno. Se ne riparerà il prossimo 28 settembre. Accanto alla parte più fredda e tecnica della richiesta di un magistrato, c'è poi il fronte più umano, come la lettera che nei giorni scorsi il papà di Melania, Gennaro Rea, ha scritto al ministro della difesa Roberta Pinotti lettera pubblicata sul Fatto Quotidiano. Un militare condannato per omicidio in via definitiva scrive non crediamo possa ancora mantenere lo status di militare e il reato commesso non ha nulla a che vedere con i reati militari. Vi prego di provvedere al più presto a far scontare la misera pena di Parolisi al confronto dell'ergastolo del mio dolore presso un normale carcere con i delinquenti e gli assassini comuni. Una vicenda lunga che ha visto il caporal maggiore condannato dall'ergastolo del primo grado con rito abbreviato fino alla sentenza definitiva della Cassazione a 20 anni di reclusione dopo l'eliminazione dell'aggramante della crudeltà. Ma se da una parte si dovrà discutere tra più di un mese sulla pena accessoria della degradazione, dall'altro i legali di Parolisi, biscotti gentile e ben guardato, sono al lavoro per preparare un ricorso alla Corte Europea di Strasburgo per stabilire se il loro assistito abbia subito o no un giusto processo. E ora torniamo a Pescara, prosegue la polemica tra centro-destra e centro-sinistra sulla questione del sovraffollamento del pronto soccorso dell'ospedale di Pescara. Ospedale di Pescara, sovraffollamento al pronto soccorso di Pietrantonio, il PD dice che a metà settembre partiranno i lavori. Sì, ieri ho avuto un incontro con la dirigenza dell'Asile di Pescara e mi è stata confermata questa notizia che credo sia molto importante. A metà settembre partiranno i lavori finalmente per il nuovo pronto soccorso che sarà molto più ampio e molto più adeguato alle tantissime richieste che l'ospedale di Pescara, ma in particolare il pronto soccorso, ha da sempre. Chiaramente adesso stanno aumentando anche gli accessi, perché se pensiamo che da Vasto a Giulianova è l'unico pronto soccorso attivo, quando è stato chiuso quello di Ortona, ci rendiamo conto quindi che gli accessi sono tantissimi. Il problema vero è che le persone che arrivano al pronto soccorso, anche quelle che potrebbero avere una risposta adeguata da altre strutture, da strutture di base, da medici di base, vanno tutti al pronto soccorso. È chiaro che tutto questo deve essere risolto, c'è questo grande impegno, entro un anno, quindi per la prossima estate dovrebbe essere ultimato il nuovo pronto soccorso e quindi la risposta ai cittadini e a tantissimi cittadini sicuramente sarà molto più adeguata. È chiaro che la notizia, 10 ore al pronto soccorso, aspettare una visita è una cosa che va assolutamente risolta. C'è un grande impegno da parte dell'Ase di Pescara, del Direttore Generale e dalla parte sicuramente della Regione, del Presidente che su questo fronte è molto attivo. Il Sindaco Alessandrini a volte dimentica che lui è il Presidente del Comitato Ristretto dei Sindaci, nonché è la massima autorità sanitaria locale e quindi dovrebbe fare di tutto, a volte anche essere più dinamico, urlare, sbattere i pugni perché il nostro nosocomio, il pronto soccorso dell'ospedale di Pescara non può creare disservizi. Se la Regione ha voluto portare avanti una legge di riordino e questa legge di riordino crea solo disservizi, il Sindaco di Pescara si deve far sentire e non può essere sottomesso dal Presidente della Regione o dal Direttore Generale solo perché sono dello stesso partito. La Regione Abruzzo affidi ai Vigili del Fuoco il servizio di Elisocorso e la richiesta fatta in una nota dal Segretario regionale del Conapo, Luigi Conti. Anche il Sindacato Medici Italiani chiede di revocare l'affidamento del servizio dell'Elisocorso al privato per affidarlo al pubblico. E' così che torna all'attacco il Conapo, il Sindacato dei Vigili del Fuoco, che chiede che il servizio di Elisocorso abruzzese in convenzione con il privato a cifre che la collettività, secondo il Sindacato, non può permettersi venga affidato alla gestione dei Vigili del Fuoco. Da anni, ricorda Luigi Conti, il segretario del Conapo Abruzzo, il Conapo sollecita inutilmente la Regione Abruzzo ad affidare l'Elisocorso ai Vigili del Fuoco che garantirebbero un'altissima efficienza, a costi nettamente inferiori rispetto a quelli sostenuti oggi dalla Regione Abruzzo. Ma la classe politica accusa il Sindacato sembra sorda e con il suo immobilismo non fa altro che continuare a sperperare soldi pubblici per avere un servizio che potrebbe costargli meno della mità, se finalmente decidessero di avvalersi di un corpo dello Stato, qual è quello dei Vigili del Fuoco, il cui pane quotidiano sono proprio la sicurezza e il soccorso pubblico. Conti inoltre esprime forte preoccupazione per l'ipotesi paventata dal Sindacato dei Medici italiani, secondo cui, pur di risparmiare, il sistema sanitario abruzzese sarebbe pronto a tagliare le guardie mediche, ma allo stesso tempo continuare ad affidare l'Elisocorso sanitario al privato, a cifre fuori dal tempo e da ogni logica. Una volta tanto e l'appello del CONAPO si abbandonino le logiche che appartengono al passato e si dia ascolto a chi, del soccorso pubblico, ne esercita una professione come Vigili del Fuoco, con dedizione, capacità ed efficienza fuori ogni discussione. La posizione del CONAPO e del Sindacato Medici italiani è dunque chiara. L'Elisocorso sanitario abruzzese deve essere gestito dal pubblico attraverso i Vigili del Fuoco. E' ora la pagina degli spettacoli e degli eventi dal 18, quindi da oggi al 21 di agosto. Spoltore offrirà spettacolo e arte con 100 artisti. Si apre infatti l'edizione 2016 2016 dello Spoltore Ensemble che vede nel cartellone alcuni big come Pino Insegno e Giobbe Covatta. 34esima edizione dello Spoltore Ensemble, quattro giorni di spettacoli che coinvolgeranno tutta la città con 100 artisti impegnati in performance tra musica, teatro, cabaret, acrobazie, videoproiezioni, arte fotografica e visiva. Quattro le location che ospiteranno gli artisti Largo della Porta, Largo della Chiesa, Piazza dal Benzio e Largo San Giovanni. Tra i big in programma ci sono Pino Insegno il 19 agosto e Giobbe Covatta che chiuderà domenica 21. Sono molto molto emozionata, ho avuto modo di vedere tutta la scaletta, quindi ci saranno delle grandissime personalità e quindi questo mi rende molto più onorata. Si parla di cultura, quindi io non posso che esserne felice e spero di, no, sicuramente darò il massimo per dare voce a questa grandissima manifestazione. Si parte alla grande, il cartellone è veramente un cartellone di altissima qualità che vede coinvolta tutta la città, il centro storico di Spoltore e veramente ci aspettiamo tantissime persone nella storia, nella tradizione e nella cultura dello Spoltore Ensemble. Ci sarà veramente tanto da vedere, quindi questa sera si va a Spoltore. È giunta quasi alla fine l'edizione 2016, la quarta di Attenti al Luppolo ogni mercoledì dal 6 luglio al 24 agosto, dalle ore 20 nel centro storico di Giulianova che conferma anche la grande presenza di visitatori circa 2000 a serata. Ieri sera il penultimo atto, una edizione quella in corso che sta dedicando attenzione allo street food con locali specializzati nella preparazione e vendita di cibi da mangiare in strada. Il resto è l'obiettivo di valorizzare e promuovere le specialità locali con il coinvolgimento di numerose attività ristorative, 16 quelle partecipanti presenti sul territorio e che sul territorio operano tutto l'anno. Spazio al Medina Abruzzo con i primi, gli arrosticini, porchetta e pesce e quindi la protagonista della manifestazione, ovvero la birra artigianale. Tra i concerti di musica dal vivo, quello finale della prossima settimana, il 24 agosto, con il duo bucolico. Presenti anche gli artisti di strada dei Baskers e il mercatino di alto artigianato. Allora la pagina sportiva con diversi servizi che attengono la gara della prima di campionato di Serie A tra il Pescara e il Napoli di domenica prossima. Sarà pronto e tirato a lucido lo stadio Adriatico Cornacchia. In buone condizioni si presenterà anche il manto erboso che aveva destato delle perplessità nella gara di sabato scorso di Team Cup contro il Frosinone. Grande attesa per Pescara-Napoli, ci sarà il tutto esaurito allo stadio Adriatico. Assessore Diodati, uno stadio Adriatico pronto e che potrà accogliere nelle migliori dei modi questa grande sfida di campionato? Sì, uno stadio Adriatico rimesso a lucido. Diciamo che i lavori, così come avevamo previsto, si stanno concludendo tutti quanti nei tempi che avevamo inizialmente previsto. Abbiamo ancora qualche piccola cosa che dobbiamo fare, però si tratta di togliere il vetro di fronte alla tribuna VIP che verrà tolto però dopo la partita con il Napoli perché non faremo in tempo a farlo ora perché la ditta specializzata in questo momento qui è chiusa e quindi lo faremo per la prossima partita e poi da sistemare queste ultime zone del campo che nella partita col Frosinone sembravano un po' rovinate, in realtà la rizzollatura del campo comporta tutta una serie di situazioni particolari, ma io ho fatto un sopralluogo ieri mattina allo stadio Adriatico, la situazione è molto migliorata, io credo che per la partita con il Napoli anche il campo sarà in perfette condizioni. Quindi sarà una grande giornata di sport, Assessore Stadio Adriatico, tra l'altro che la settimana successiva non è ancora ufficiale ma quasi certo ospiterà anche la gara di campionato valida per la seconda giornata a Crotone Genoa. Sì, noi non abbiamo ancora ricevuto l'ufficialità dal Crotone Calcio però insomma noi come voi leggiamo le notizie sui giornali e sembra che sicuramente a Crotone non faranno in tempo a sistemare lo stadio per la prima partita di campionato per cui noi attendiamo anche il Crotone che viene a giocare qui a Pescara, io penso che possa essere un'occasione per gli sportivi abruzzesi per vedere un'altra partita di Serie A. Ed è prossimo il sold out, il tutto esaurito allo stadio Adriatico Cornacchia, ultimissimi tagliandi in vendita per la tribuna Maiella, abbiamo fatto il punto della situazione questa mattina. Si parla della corsa all'ultimo biglietto in vista della gara con il Napoli, inizia la Serie A per il Pescara e allora come si è svolta tutta la campagna abbonamenti, a che quota si è arrivati e quanti biglietti restano? La flusso è stata abbastanza costante per fare gli abbonamenti, c'è stato un picco durante i primi giorni sia della vendita per la prelazione che per la vendita libera, poi per il resto è stata abbastanza costante fino a domenica quando si è conclusa la campagna per i primi abbonamenti. Per quanto riguardano i biglietti della partita, allora martedì è stata riservata la vendita per gli abbonati della Sud in quanto per la partita con il Napoli la Sud è riservata agli ospiti e poi ieri la vendita libera praticamente in mattinato sono andati via i settori della nord e dei distinti e sono rimasti un 300 biglietti nella tribuna Maiella, quindi oggi c'è poca gente perché lo sanno che sono finiti quasi i biglietti. Sul fronte formazione il tecnico Massimo Oddo sarà privo dei difensori campagnale Fornasier ma sarà a disposizione l'ultimo arrivato la scorsa settimana, lo slovacco Norbert Ghiomber in attacco invece assente Nicastro, infortunato ma ci sarà al centro dell'attacco Ray Manai che ha dovuto saltare per squalifica la gara di Team Cup contro il Frosinone. Nel Napoli assenti Giaccherini che non è ancora pronto dopo essere rientrato in ritardo per via dell'esperienza al campionato europeo e mancherà per squalifica il centrocampista Giorginio. Nel Pescara peraltro si sono messi in evidenza durante la campagna estiva del precampionato il giovane del sole, il giovane attaccante del sole e il giovane difensore Malocco che si stanno affacciando alla prima squadra. Ascoltiamoli. È un'emozione immensa, veramente sono commosso e spero di gioire con questa maglia. Qualora giocassi e segni esulti? Ma penso di no perché sono di Napoli e mi sembra anche brutto contro la mia città. Possiamo definirlo un sogno perché è il sogno di qualsiasi bambino, far parte di una rosa di Serie A. Io ci sono e cerco di viverla al meglio. Differenze tante, sicuramente a livello fisico, tecnico è tutto un altro passo, però mano a mano ti ambienti diciamo. E l'attaccante del Napoli e della nazionale italiana Lorenzo Insigne non sarà a Bolognano lunedì 22 agosto per ritirare il premio nazionale Giuseppe Prisco. In una breve comunicazione dell'addetto stampa del Napoli inviata al comitato organizzatore della manifestazione si fa presente che Insigne appunto non potrà partecipare alla cerimonia del premio in quanto non ha l'autorizzazione della società. Dopo aver sentito telefonicamente il giocatore, il comitato organizzatore presieduto dall'imprenditore Marcello Zaccagnini ha deciso di intesa con il presidente della giuria Sergio Zavoli di rinviare la consegna del prestigioso riconoscimento a data da destinarsi. La data del 22 agosto era stata scelta inizialmente in quanto il giorno prima il calciatore sarà impegnato con il Napoli proprio nella prima di campionato a Pescara. Scendiamo ora in Lega Pro, l'ultimo arrivato in casa Teramo e il difensore Capitanio, vecchia conoscenza del tecnico Zavoli che lo ha allenato al Sant'Arcangelo al pari di Ilari e Peterman. Filippo Capitanio che conosciamo meglio in questo servizio. Con Filippo Capitanio fanno quattro, anche qualcosa di più, gli ex Sant'Arcangelo considerato giocatori e staff tecnico del Teramo. Questa anima romagnola esportata in Abruzzo. Zavoli immagino ci abbia messo una parolina per portarti qui a terra. Penso proprio di sì, dato che sono venuti qua a Ilari e anche Peterman ho accolto subito questa grossa opportunità che mi ha dato il presidente, l'intellettore Lupo e anche il ministro di certo. Sei venuto per rinforzare un reparto difensivo in cui ci sono già due colonne come Caidi e Speranza. Capitanio come si inserisce nelle gerarchie? Ovviamente ci sono loro due, però io farò di tutto per mettere il ministro nelle condizioni di poter far bene anch'io. Poi qui ho visto già da ieri che ci sono giocatori molto validi, quindi le soluzioni che darà il mister arriveranno anche meglio. Perché ci sono gente molto molto forte, quindi usciremo bene. I movimenti difensivi che vi richiederà l'allenatore, tu li conosci un po' a memoria, si riparte dalla difesa a quattro sostanzialmente, che è un po' il dogma di Lamberto Zavoli. Sì, sì, assolutamente sì, anche ieri e oggi mi sto provato a quattro e penso che sarà questo il suo modulo. Ci spieghi un po' l'intermezzo di Olbia che ti ha riguardato? Sembrava che dovessi andare in Sardegna e poi sia venuto a terra. Sì, sembrava, poi invece grazie a Dio ho scelto qui. È stata una breve esperienza, durata cinque giorni e niente, ora sono qui e penso a far bene qui. Un girone di ferro, quello che è stato definito. Si parte da Lumezzane, ma gli obiettivi del Teramo, considerando che ci sono anche squadre molto importanti come Venezia, Parma e non solo, quali sono? Sì, assolutamente sì. Play-off, dai, minimo. La squadra che siamo penso che sia quello. E dopo ci sono tantissime altre squadre forti, il nostro girone, c'è il Padova, Reggiana, Feral Pissarò che anche l'anno scorso ha fatto un campionato ottimo. Però dai, anche noi ci faremo bene. E alla quinta c'è Sant'Arcangelo Teramo. Eh sì, alla quinta sì. Che partita sarà? Eh, sarà una partita tosta, dai, perché anche loro, anche quest'anno, faranno una squadra buona, salvezza, auguro a loro di raggiungere come abbiamo raggiunto l'anno scorso, però andremo noi a vincere, speriamo dai. Perfetto. E ieri allenamenti a ranghi completi per il Teramo, senza però Stefano Amadio, assente ufficialmente per un problema alla schiena. Tra oggi e domani ci sono possibili sviluppi nella trattativa che dovrebbe portarlo a Latina. Se dovesse partire pronto l'assalto a Matute, mediano 28enne della Casertana che piace molto al tecnico Zauli. Teramo che sabato sera alle 20.30 sarà impegnato nell'amichevole contro il Perugia al Bonolis. È tutto per questa prima edizione del TG6, le prossime alle ore 19 e alle ore 23. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento con i nostri programmi. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento con i nostri programmi.